Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella stracciatella. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, fecola di patate, uova, zucchero, olio di semi di arachidi, yogurt alla vaniglia, estratto di vaniglia, lievito per dolci vanigliato, sale, pasta d'arancia o la scorza di un'arancia grattugiata, cioccolato a pezzetti. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Unite sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le uova e le facciamo montare per 8 minuti, 37 gradi, velocità 4. Aggiungere lo yogurt, olio, la farina, la fecola, il lievito, il sale, la pasta d'arancia e l'estratto di vaniglia ed azionare il bimbi per 4 minuti a velocità 4. Aggiungere il cioccolato ed amalgamare con la spatola. Versare il composto in uno stampa a ciambella da 28-30 centimetri di diametro. Cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti. Fare sempre la prova a stecchino. La ciambella è cotta. Lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo e servire. Ciambella stracciatella. Grazie e alla prossima ricetta. La ciambella stracciatella. Grazie a tutti.